Il Partito della Rifondazione Comunista ha lanciato un'indagine conoscitiva sul diritto allo studio, un'indagine nazionale. Proprio in questi giorni state distribuendo anche a Catania e provincia i questionari destinati soprattutto agli insegnanti delle scuole. Che cosa volete sapere da questa indagine? Quali sono i punti più importanti? Sì, noi con questa indagine che è un'indagine a livello nazionale e che sta partendo anche in questi giorni a Catania vogliamo fare una radiografia completa della situazione del sistema dell'istruzione pubblica nel nostro territorio a livello nazionale. Noi pensiamo che in questi giorni in cui si stanno iniziando a definire gli organici per il prossimo anno scolastico è necessario mettere in evidenza una situazione molto grave. Una situazione che vede il sistema dell'istruzione in grave sofferenza su tutti gli aspetti. Nel nostro questionario attenzioniamo la vicenda dell'edilizia scolastica ma anche le classi sovraffollate e la mancanza di supporti per i ragazzi disabili. Cerchiamo appunto di compiere una radiografia completa del sistema dell'istruzione pubblica nel nostro territorio perché pensiamo che ci sono dei problemi molto seri che se vengono confermate le politiche governative che sono annunciate, che prevedono ulteriori tagli del personale non potranno che aggravarsi ulteriormente. Anche se voi avete già un'idea appunto come ha detto in questo momento su quello che sarà alla fine il risultato del questionario, che cosa ne farete? Noi appunto presenteremo questi dati sia a livello territoriale che a livello nazionale perché ci vuole un grande momento di autocoscienza rispetto a come è combinata la situazione nelle scuole della nostra provincia. E' un problema di rendere coscienti sia gli operatori, i docenti, coloro che vivono la scuola, gli studenti, le famiglie, tutti i cittadini, sia di porre le istituzioni a tutti i livelli di fronte alle proprie responsabilità.